Eccola qui, tornata al suo originale splendore ad assorbire lo sguardo della sua città. Simbolo sfortunato dello sfregio inflitto dal terremoto che lo scorso novembre aveva colpito Pesaro, la rigenerata madonnina dei capuccini è stata svelata ieri alla cittadinanza tra l'imbrunire del tramonto. Eppure per la statua è una nuova alba, resa possibile grazie al lavoro di restyling fatto in questi mesi dai Lions Club Pesaro della Rovere unitamente a Renco, SPA e Comune di Pesaro. Un intervento dal costo di qualche migliaia di euro che ha permesso di applicare il restauro della madonnina, danneggiata la sua calotta cranica dal sisma di magnitudo 5.7 del 9 novembre scorso. Quello di ieri è stato un momento magico per tutti i fedeli presenti, ma anche per le numerose istituzioni che hanno accompagnato lo svelamento compiuto dall'assessore al fare Riccardo Pozzi. Cerimonia addolcita dalla musica del duo Le Rosse e dalla lettura del 33esimo canto del Paradiso di Dante Alighieri che invoca alla preghiera che San Bernardo rivolge alla Vergine Maria. Per noi è una giornata molto importante che ci rende molto orgogliosi e fieri, perché come ho avuto modo di dire è un contributo di sensibilità e concretezza che abbiamo dato alla città ridando, restituendo la madonnina nella pienezza diciamo pienamente recuperata. Devo ringraziare tutti i soci del club a partire da Chiara e da Stefano che hanno seguito passo per passo il recupero e tutti i soci che appunto hanno dato l'apporto e consentito. Un particolare ringraziamento anche a Eli che ha seguito la parte social, culturale dell'intervento. Ringrazio anche la tv che è presente qui stasera che ci ha dato spazio a questo evento, quindi diffondere l'evento. Quindi io sono molto molto contento, molto soddisfatto e come recita la targa dove c'è un bisogno c'è l'ancio, perché noi siamo concreti, quindi il nostro motto è We Serve, noi serviamo e quindi in questo caso abbiamo servito, il nostro servizio è stato quello di restituire un emblema alla città. Bella emozione davvero perché la statua alla Madonna dei Capuccini è davvero il simbolo della città, non è un simbolo solo cristiano per i tanti credenti, non è solo il simbolo del quartiere di Pantano, ma è il simbolo della città. Come dicevo è un simbolo che purtroppo il 9 novembre è diventato anche a grado il simbolo del terremoto, quindi insieme a Lions che subito si sono attivati per cercare di recuperare quella parte del capo che era caduta con quella forte scossa, abbiamo messo a disposizione con l'amministrazione comunale tutto quello che potevamo per il recupero della statua. Abbiamo trovato subito una bella rete di sinergia tra diversi partner, un grande grazie va sicuramente fatto alla Renco che è stato lo sponsor principale di questa iniziativa e quindi oggi è un bel momento di festa per celebrare il ritorno di una statua nel suo posto e in una zona tra l'altro oggetto di una riqualificazione importante, perché qua alle mie spalle c'è il cavalcaferrovie, oggetto di un intervento di messa in sicurezza rispetto alle barriere, c'è il sottopasso ciclopedonale, anche quello oggetto di un intervento di riqualificazione importante, poi avverrà anche un deposito delle biciclette proprio nel parcheggio qui e quindi la statua va a chiudere un po' il cerchio rispetto agli interventi di riqualificazione di quest'area.